Gli highlights di questa gara 2 dell'Euro Formula Open da Estoril con Petro Floresco che parte dalla pole position con un bloccaggio contiene il recupero di Marco Siebert e Felipe Drugovic alle sue spalle mentre Daz e Iorio devono combattere con Mayanes Fitti, ottimo scatto del tedesco che si porta addirittura in terza posizione davanti proprio al pilota di casa RP, in difficoltà invece Carlin che va a perdere posizioni. Drugovic che riesce ad avere la meglio nei confronti di Fitti e mettendo addirittura due ruote sull'erba bagnata, stessa cosa succederà poco dopo a Bent Vizcal, riesce intanto poi Fitti a riprendere il giusto ritmo della corsa concludendo in quarta posizione, frenata al limite sia per Floresco che per Siebert con il rumeno che deve cedere il passo all'argentino, anche Drugovic avrà la meglio all'interno di curva 1 proprio su Floresco dopo una bellissima battaglia. Il rumeno è un osso duro da superare, riuscirà però anche Bent Vizcal, eccolo qui ad avere la meglio nei confronti del pilota di casa Fortec che concluderà al quinto posto sopravvanzato anche da Iannes Fitti, mentre Vizcal che chiude al terzo posto è il vincitore della classifica rookie, la battaglia finale tra Siebert e Drugovic con il brasiliano che fa di tutto per cercare di vincere la seconda gara consecutiva nel weekend, ma deve arrendersi al ritmo di Siebert che regala così il successo al Team Campos. Grazie